Oggi a Bitonto la processione dei santi medici e martiri Cosma e Damiano. Tantissimi pellegrini si sono riversati nella città del sollievo dalle prime ore del mattino. Una processione che dura da circa 12 ore e che si conclude sul sagrato del santuario con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano. Un culto antico e sempre nuovo che trova il suo significato più profondo nell'organizzazione della speranza attraverso i vari servizi sociosanitari della Fondazione Opera Santi Medici.